Giuro, ho provato ad arrivare all'episodio 360 senza dirlo, ma poi ho comprato una confezione del mulino bianco che prometteva una sorpresina. L'ho aperta e ho cercato tra le merendine. Niente. Per la delusione l'ho dovuto dire, una volta si stava meglio. Dirlo mi fa sentire un vecchio boomer, ma chiunque non abbia vissuto gli anni 80 deve sapere che cosa si è persa. Quando ero piccolo tutte le confezioni delle merendine contenevano una scatoletta di fiammiferi che prometteva meraviglie. Assalto al castello era una versione medievale del gioco delle pulci. Connettendo i pezzi delle mura si realizzava un vero e proprio castello di carta. Scopo del gioco era di assaltare il castello facendo entrare le pulci nelle mura. Questa era una delle più strane. Invece del cassetto conteneva questa scatola di plastica che nascondeva un timbro personalizzabile. Sette lettere erano sufficienti per il mio nome. All'interno c'erano non solo i ricambi ma addirittura una pinzetta per manovrare comodamente le lettere. Se negli anni 60 i giochi con i fiammiferi si imparavano leggendo Martin Garner, la mia generazione aveva i giochi dei bastoncini dove un manualetto spiegava scommesse indovinelli. Ma la sorpresa che mi ha segnato di più come mentalista era il libro degli indovinelli. Nome fuorviante perché il manualetto insegnava a indovinare il numero pensato in due modi diversi e a leggere nel pensiero un nome di persona. Riesci a immaginare quanto io sbavassi leggendo che si trattava del libro numero 3, io che non avevo i primi due? Il gioco della strega virava sul macabro perché descriveva la tecnica con cui trapassare il collo con un cappio magico. La meridiana portatile prometteva di misurare l'ora esatta orientandola secondo i punti cardinali, tipo che alle 4 l'ombra finiva sul 4. La sorpresa più magica che mi sia capitata è il mazzo di carte del mago. Sono 52 dei 4 asemi cuori, quadri, fiori e picche, con l'inaspettata caratteristica di essere con***e. Si tratta di carte truccate talmente diffuse da essere snobbate da chi la ritiene roba da principiante. Invece di snobbarle, io amo usarle per fare questo. Utilizzerò queste 3 carte. Quella in fondo è un asso di quadri. Anche quella in cima è un asso di quadri, ma anche quella al centro è un asso di quadri. Ruotando di 180 gradi le carte, la carta in fondo diventa un 2 di quadri, ma anche quella in cima, ma anche quella al centro. Ruotando ancora di 180 gradi, l'ultima carta diventa un 3, ma anche quella sopra, ma anche quella al centro. Il mio gioco preferito con le carte del mulino bianco. Faccio questo gioco da 30 anni. Si può fare anche con le carte normali, ma con quelle coniche talmente facile che devo ringraziare Salvatore Cimò e George Blake per avermelo fatto conoscere. Esisteva anche l'astronave madre. Chi collezionava le sorpresine poteva procurarsi una grande scatola che ne conteneva fino a 14. Recuperando dal solaio questa raccolta, mi è finita tra le mani questa scatolina che testimonia la mia precoce vocazione hacker. L'avevo truccata io stesso e grazie a questo taglio era possibile trafiggerla con un coltello affilato. Pur essendo bloccato dalla lama, il cassettino continuava a scorrere liberamente, senza che dall'esterno si avesse alcun indizio del trucco utilizzato. Nei mercatini questi meravigliosi oggetti si trovano ancora. Buona caccia perché ne vale davvero la pena.